Ciao, sono Duke, bentornati su Minecraft Arcor, sto pescando, ho pescato un bel po', ho pescato quindi 5 trote e 2 salmoni e se non sbaglio ho anche pescato un osso, però non importa. E tra l'altro c'è una cosa assurda, l'ho notata un minuto fa e mi sono sentito davvero un idiota per non averlo notato prima, guardate cosa vedete là, vedete che guardando dritto non si vede niente, ma se io giro un po' la visuale appare qualcosa, è un templio dell'oceano assurdo, perché non me ne ero accorto, ho un templio dell'oceano qua davanti, vicinissimo. Non l'avevo visto, è là davanti, si vede abbastanza facilmente tenendo la visuale dritta e mettendolo lì subito vicino al bordo, vedete che così si nota bene, perché c'è questa cosa stupida che per come è fatto il gioco, se mettiamo qualcosa in una zona periferica della nostra visuale la vediamo meglio. Questa cosa mi ha stupito, sto iniziando a pensare che questo sistema di cercare di pescare una sella sia fallimentare, perché potrei dover stare qua una vita per trovare la sella e quindi quasi quasi mi avvicino al templio dell'oceano. Anche se in realtà è una cosa stupida perché non sono equipaggiato abbastanza per andare nel templio dell'oceano, morirei subito, è un po' inutile. Quindi forse è meglio segnarsi il fatto che qua c'è questo templio ma non andarci ancora, perché diciamocelo morirei subito. Non ho un incantesimo che mi faccia respirare di più sott'acqua, non ho niente, non ho armi abbastanza forti, non ho nemmeno delle frecce al momento. Quindi è dura. Perché ora non sto pescando più niente? Che brutte cose. Questa idea che ho avuto di cercare di pescare la sella è stata proprio assurda, è troppo improbabile riuscire a pescarla. Ho un sacco di stimoli qua che non posso sfruttare come vorrei. C'è il templio dell'oceano e non ci posso andare, ci sono i cavalli e non li posso cavalcare. Uffa. Tiriamo fuori questo creeper dall'acqua. Vieni qui. Dannato creeper. Eccolo qui. Sistema super veloce. Tra l'altro stavo pensando che la canna da pesca si può utilizzare quando c'è un gruppo di mob e hanno interesse a ucciderne solo uno specifico per avere i suoi drop. Con la canna da pesca possiamo avvicinarlo a noi. Penso che sia arrivato comunque il momento di andare a scavare. Tutto sommato non posso continuare a giocare a minecraft per sempre senza farmi una miniera. Questo è minecraft, bisogna scavare e trovare nuove risorse. Voglio una sella, quindi trovare un dungeon sotterraneo o anche un mineshaft, cose di questo genere, perché ne ho davvero bisogno. Tra l'altro qua non ho nemmeno una palla. Non ho una palla, ecco qua. Mettiamo la palla. Poi lasciamo qua nella cesta un po' di cose inutili. Cuciniamo un po' di cibo per prepararci ad andare in miniera. Mi sono preparato un po' di cibo. La porta la possiamo anche lasciare qua. Ora mi faccio un nuovo piccone perché non si sa mai. Però lo faccio, faccio un piccone di pietra per non sprecare sempre quello di ferro. Penso che sia una mossa saggia. Normalmente ero molto più cauto di come sono in questo periodo con i picconi. Non sprecavo mai quello di ferro, se non davvero quando era necessario. Ma col fatto che adesso il ferro è così comune, un po' me ne sto fregando, sinceramente. Poi ho fatto un nuovo arco. Non posso fare frecce perché non ho punta di frecce, però non è un problema. Le farò in miniera. Poi faccio finalmente gli stivali. E così posso avere un'armatura completa di ferro. Ora sono pronto per andare in miniera e quindi muoviamoci. Come punto d'ingresso scelgo una zona qua immediatamente davanti alla casa. Mi sembra la cosa migliore. In modo che sia comodo. E ora inizio a scavare. Voglio fare una miniera nel modo più corretto, che non è il modo più veloce. Il modo più veloce sarebbe continuare a scavare sotto i propri piedi e arrivare subito giù in profondità. Però almeno finché non trovo delle grotte già pre-presenti. Pre-presenti si può dire, no, non importa. Voglio continuare a utilizzare il metodo corretto. Ossia scendere di un cubetto alla volta in modo che poi io possa risalirla facilmente. Quindi ora via a scavare. Ho trovato il primo ferro in questa zona con il granito e anche con della ghiaia. Ho distrutto la ghiaia, infatti ora ho fatto un po' di punta di freccia. Tra l'altro mi accorgo adesso che ho l'inventario un po' pieno, quindi magari torno su. Tra l'altro ho noto che là, quello è un creeper? Quello sembra un creeper. Sì, lo è. Quasi quasi, se lo utilizzo per scavare un po', mi faccio seguire sotto? No, morirei e basta. Sta esplodendo. Ok, è morto. Vado a fare una nuova pala, a mettere giù un po' di oggetti che non mi servono. Ho fatto una nuova pala e già che c'ero ho fatto anche le frecce. Ora ho ben 36 frecce, quindi sono piuttosto tranquillo. Direi che posso iniziare a fare un po' di tiri con l'arco quando vedo un gruppo di mob, senza preoccuparmi di stare utilizzando le frecce. Qua il ferro va raccolto tutto, anche se ne ho tanto, comunque è utile. Tra l'altro mi piace il fatto di avere ferro in abbondanza, così non mi devo preoccupare di quanto sto consumando l'armatura. Quando è troppo consumata ne faccio semplicemente un'altra. Ovviamente di picconi ne ho fatti un po', perché scavare li consuma. Questo è già il terzo piccone, ne ho già consumati due interi. Ho trovato la mia prima galleria. Sono abbastanza contento, non ci è voluto molto. E ora quindi inizierò ad esplorare questa. Però prima è il caso di fare in modo che io possa ritirarmi velocemente se ne ho bisogno. E inoltre voglio anche fare in modo di essere sicuro di capire dov'è il punto dove si sale. In questo caso non è un problema, ma a volte mi ci perdo davvero. Ah, è tutto qua purtroppo. Direi che non è una galleria abbastanza lunga e che non va abbastanza in profondità, quindi continuo il mio percorso, la mia miniera, verso il basso. Wow, e qua c'è subito una nuova apertura. Questa direi che è sensibilmente più grande, c'è della lava. Iniziamo ad andare abbastanza in profondità qui. Ho portato della sabbia, che è utile in questi casi, perché la sabbia ci consente di poter scendere tranquillamente, fare una sorta di scala al contrario, senza doverci buttare giù. Quindi è abbastanza comoda. Per fortuna che la sabbia soffre la gravità. Perfetto, ho fatto la mia scaletta. Vediamo di illuminare bene questa zona per non far sponare troppi mob. Oh cavolo, che paura! Ho ucciso, mi ha spaventato quel cavolo di scheletro. Ah, redstone! Signori e signore, la redstone, nel suo habitat naturale. Bene, bene, bene. Fra un po' so già che mi stuferò di raccogliere il ferro, talmente abbondante. Mi rendo conto che continuo a ripeterlo. Però, se vi avesse giocato davvero all'inizio di Minecraft, quando il ferro, non dico che fosse raro come il diamante, assolutamente no. Però, davvero, non si trovava mai così esposto così tanto. Prima di avere un kit completo di ferro, un'armatura completa di ferro, ci volevo un bel po'. Che, che cavolo, state scherzando? State scherzando? Quella? Quello sta cavalcando? È un mini zombie che sta cavalcando un pollo! Vi assicuro che è capitato naturalmente? Che... Sono così scioccato che no, non so cosa sto facendo. Mi dispiace, ho dovuto ucciderlo, ma... Avrei voluto quasi conservarlo in una teca. Se fosse stato possibile catturare i mob, lo avrei fatto. Che roba assurda! Che roba assurda! Vi giuro che è proprio capitato! Non c'entro niente io! Non ho assolutamente... Non so, modificato il gioco, fatto niente per far capitare questa cosa. È davvero capitata così naturalmente. Assurdo, assurdo. Adesso uccido un po' di mob qua, per liberare la zona. Ho messo le torce, sì. Mettiamo altre torce, mio Dio. Non smetterò mai di... Di... Stupirmi di questa cosa. Un baby zombie che cavalca... Una gallina. Ovviamente sapevo che era possibile. È un'aggiunta a Minecraft abbastanza recente. Ma me ne ero dimenticato. Avevo... Forse ci avevo fatto proprio un video sugli snapshot su questa cosa. L'avevo menzionato in un video degli snapshot. Però wow, non avrei mai pensato che mi capitasse. Ora non ricordo la rarità, ma è sicuramente molto raro. Tra l'altro qua si rischia di morire alla grande. Non è perché uno scheletro ti può sparare una freccia e voli nella lava. E non è bello. E qua c'era uno scheletro qua. Sì, eccolo lì. Vuoi fare una gara? Di freccia? Addio. Qua c'è dell'acqua, bene. Così... Se anche brucio nella lava posso spegnermi. E qua niente, finisce la grotta. Che scoperte però, eh. Che scoperte. Altra redstone. La redstone la voglio... Oh... Era la mia freccia, sì. La redstone la voglio raccogliere. Ovviamente. Però non ho abbastanza spazio nell'inventario, quindi butto via qualcosa. Il sistema di queste gallerie è piuttosto ampio. Credo però di riuscire ad esplorarlo tutto senza grossi problemi. La vedo addirittura dell'erba. C'è della terra. Per ora non voglio però andare in quella direzione. Ma voglio tornare un attimo qua sopra. Fare una workbench. Fare una stanzetta. Anzi qua c'è già una stanzetta. E con una workbench voglio creare un secchio di ferro. In modo da prendere dell'acqua là dove l'ho vista prima. Buttarla sulla lava. E così crearmi un ambiente un pochino più tranquillo. Ed evitare di morire. Un episodio assurdo questo. Un sacco di scoperte sensazionali. Il Tempio dell'Oceano. E quell'affare ridicolo del baby zombie sulla gallina. Che mi ha colto davvero di sorpresa. Forse non è una cosa alla fine così pericolosa. Però parlando esclusivamente di quanto mi ha sorpreso. E' stata una delle cose che mi ha sorpreso di più in minecraft in assoluto. Davvero. Quando l'ho visto proprio non so cosa ho pensato. Pensavo di non aver visto bene cosa fosse. O qualcosa del genere. In ogni caso. Ora faccio questa stanzetta. Al workbench come ho detto. Ed è tutto per l'episodio di oggi. E poi continuiamo a esplorare quale profondità della terra. Viaggio al centro della terra. Che ho letto di recente tra l'altro. Divertente mi è piaciuto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati con me. Ciao a tutti. Ciao a tutti.